Ci troviamo al fattore dell'Aquila, sono le ore 17 circa e stiamo soltanto alla conclusione della giornata del raduno regionale delle società abruzzesi delle scuole calcio. In questa porzione di gioco, di campo, gioca la Virtus Castelfrentano contro la Real Casolana. I nostri ragazzi hanno la maglia caratteristica, la divisa giallo-rossa, mentre la Casolana ha la classica gialla-verde, pantaloncini verdi, calcettone verdi e maglietta gialla. Tutto lo stadio è soddiviso a porzioni di campo che ci stanno esibendo, tutti i ragazzi del 2009-2010, pure i pulcini. Sto facendo una panoramica di tutte le porzioni. In volto c'è il gruppo di mister Gabriele e mister Antonello. Samuel, Samuel, sali qua! Testa, testa! È stata una bella giornata di solo, solo un'impernata con un po' di vento che ha raffreddato un po' gli animi, però i ragazzi stanno tutti pimpanti, tutti con le loro riviste in pantaloncini, tu, sfidando il venticello, i curanti si divertono, il pubblico delle grandi occasioni qua al fattore dell'Aquila. La in fondo si vede il dirigente Francesco Mancini. In porta c'è, ecco, con la divisa da portiere c'è il figlio. Ah, che fa? Già è finito? Non so, aveva qua il giudice di campo. Marzica qua. Allora, rimanete in campo così? Questa è la Marzica. Voi siete Marzica? Siete la Marzica, ecco. Adesso c'è un'altra esibizione. Marzica, Marzica. C'è un'altra esibizione. La società Marzica. La società Marzica. Ecco, questi ragazzi, sì, sono la Marzicana. C'è un po' di confusione con tutte queste porzioni di campo. C'è un gruppo di ragazzi che entrano ed escono dalle porzioni di campo. In fondo si vede che si sta esibendo un altro gruppo nostro della Virtus. Via, Giovo. Vieni, Giovo. Vieni, Giovo. Vieni, Giovo. Vieni, Giovo. Dai, su, cominciate. Che si divertono tutti, su. Via, via. Forza ragazzi. Ecco, la Marzica contro la Virtus Castellentano. Dai, Brancilla. Non di girare, Flavio. Bravo, Marzica. Bravo. Bravo. Bravo, Mattia. Grande Mattia. Lasciala, Paolo. Lasciala, Francesco. In porta c'è... Manu. Manu. A destra, qua. Mancini, Junio. Gira, gira. Gira. Bravo. Dai, Manu. Dai, Manu. Dai, dai. Si confrontano... Si confrontano i nostri baby atleti. Francesco, vai avanti. Vai, Francesco. Una palla te lo sei guadagnato. Vai. Bravo. Batti, Manu. Manu, batti. Francesco, vai a sinistra. Ognuno le posizioni, su. Su, ragazzi. Questo gruppo... Bravo, va bene, dai. Se il mister Renato ha questo gruppo di ragazzi. Vabbè, devi stappiare avanti con il battaglio. Quando stappiare avanti. Di qua. Bella azione della Marsica. Manu, attaccalo, non ti girare. Ah, prende una palla Francesco, tira un tiraccio colpendo involontariamente. Su, ragazzi. Niente il portiere, facile presa del portiere. Abbasati. Bravo Manu, abbasati qua. Rimessa laterale della Marsica. Intervento di Mancini Junior, contro piede. Rimessa, rimessa per la Marsica. Rimessa per la Marsica. Guarda, Franci, abbasati. Ecco, rimessa per la Marsica. Con la divisa blu-gialla. Alza la testa, Paolo. Bravo. Francesco, si è fatto scappare la palla. Calma. Devi controllare la palla. Tutto il Mandelboso nel fattore è stato sostituito in porzioni di campi da gioco. Una bella panoramica. Francesco. Il pubblico sta un po' depruendo. Tiraccio. Rete. Autorete. 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 Un tiro. Sì, è gol. È gol. Sì, è gol. Sì, sì, sì. Autorete. Ha battuto sulla schiena di uno dei nostri e è andato a rete. È proprio pulito, pulito. Via. Palla.